Cavalieri, sacerdotesse, vittime di bisogni fisiologici, bentornati, bentrovati ancora una volta insieme a noi che ci avviciniamo passo dopo passo alla fine della sire classica. Il nostro primo grande traguardo ci si sta avvicinando. Non vediamo l'ora di andare oltre, in particolare Lisa sta trepidando nell'attesa, ma lasciamo trepidare ancora un po' perché continuiamo con la sire classica. A te, Scorpione. Allora, benvenuti al Centre Watch. Siamo all'episodio 111, 1-1-1 e intitolato Un aiuto giunto da lontano. Attenzione perché un dono giunto da lontano già era stato usato, quindi hanno dovuto andare sul dizionario dei sinonimi e contrari e trovare un sinonimo di questo. Però io invece, no, lo intitolo. Ovviamente all'epoca ancora non esisteva questa serie televisiva. forse, ma neanche credo neanche il comic esisteva però io l'ho intitolato The Walking Dead perché effettivamente in questa puntata qua ce ne sono diversi di zombie che arrivano alla corte del nostro Poseidon Allora, particolarità di questa saga credo dovuta più a motivi di numero di episodio contingentato è che lo scontro col boss finale inizia quando ancora i sottoposti di questo non sono stati sconfitti o tutte le colonne distrutte effettivamente siamo a 5-7 cioè come se praticamente la saga di Asgard sai che ci devi andare da Hilda che ha soltanto 5 5 smeraldi sa che è ancora tecnicamente impossibile Zaffiri Zaffiri se andasse con 5 smeraldi è ancora meno esatto sono andato da un gioielliere e mi ha fregato ecco, mi ha dato 5 fondi di bottiglia lo scontro diciamo con Nettuno è praticamente alternato perché era già arrivato cioè c'è Seiya che arriva sempre come un Walking Dead poi arriva Shilio poi arriva Crystal ma semplicemente vengono usati per mostrare quanto è forte Nettuno che soltanto con il pensiero senza nemmeno alzare un dito riesce praticamente a disintegrarli è anche pur vero che non c'è troppa enfasi su questo perché appunto entrano non belli guns correndo con le armature intatte eccetera ma arrivano già che praticamente sono con mezzo con mezzo piede nella fossa quindi praticamente non è che serva tantissimo però diciamo è efficace nel voler dire guardate ora effettivamente ci troviamo davanti a uno scontro tra un bronze ed una divinità anche se poi questa divinità che ancora non è risvegliata del tutto quindi sono sempre anche le attenuanti abbiamo finalmente un'altra scena anche al grande tempio anche se è molto buffo che Shaka e Toro sono praticamente muti perché praticamente sono lì ma non dicono mezza parola probabilmente siamo ancora nella fase di vacanze estive quindi non abbiamo trovato i doppiatori per fargli dire due parole ed effettivamente vediamo quello che il titolo dell'episodio già suggeriva ovvero l'aiuto che anche questa volta si rivela essere un'armatura d'oro abbiamo poi lo scontro che continua tra Shun e Siria come vedete nell'immagine alle mie spalle che a conti fatti praticamente è brevissimo nel senso che se andiamo a prendere le due puntate in cui c'è non è sono proprio puntate neanche metà puntata è dedicata a questo scontro in un certo senso forse è efficace nel senso che non puoi vedere uno scontro semplicemente con uno che suona flauto e l'altro che subisce però l'episodio 110 aveva dimostrato che poteva esserci una certa dinamicità e anche quando l'azione cioè la la telecamera si sposta alla colonna dell'antartico del sud si vede praticamente che comunque è stata una battaglia piuttosto combattuta ora io qui ovviamente verrò tacciato di esseri di parte eccetera eccetera però la fine dello scontro secondo me forse è il top per quanto riguarda Andromeda sia perché comunque vado a Siria per me come potete vedere dalla classifica che abbiamo fatto è il generale più forte tra i sette ma poi è efficace come venga mostrato l'uso della della nebulosa che non è più un vento diretto ma viene praticamente mostrato come un un mulinello che risucchia il nostro caro il nostro caro Siria detto questo prima del voto aspettiamo di sentire gli altri due quindi Sirio è un episodio che mi piace tanto mi piace tanto 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 è tra i miei preferiti di tutta la serie di Nettuno in generale perché allora intanto sono 111 episodi che io vado dicendo che mi piacciono gli episodi colari quando i protagonisti si riuniscono e iniziano a combattere insieme e in questa puntata praticamente ne abbiamo 3 su 5 con Nettuno e 4 su 5 se consideriamo tutto quello che avviene nell'episodio e queste situazioni a me piacciono in generale per cui apprezzo moltissimo la sequenza in cui Pegasus Sirio e Crystal arrivano da Nettuno uno a uno e cominciano a supportarsi a vicenda e la preferisco anche rispetto a manga in cui Sirio e Crystal arrivano contemporaneamente invece qui nell'anime fanno delle figure da cioccolatai tutti quanti però almeno arrivano l'ingresso in scena di Sirio per difendere un amico se neanche di più Crystal e Debo e Sirio ma può contare i suoi amici sinceri Nettuno che dice terzo sei giunto e per primo morirai c'è tutta una serie di scambi di battute che mi fanno attrezzare sia le dinamiche interne al gruppo sia anche il primo scontro se escludiamo i film tra i protagonisti e la divinità per cui se aveva i 12 casi aveva avuto per la prima volta i cavalieri di bronzo contro i cavalieri d'oro che non stessero giocando più di tanto qui invece abbiamo l'ingresso in scena di una divinità e viene reso abbastanza bene per adesso questa superiorità superchiante di Nettuno su tutti loro in particolare la distruzione delle armature dorate che finora avevano praticamente risolto qualsiasi scontro quindi in questo senso mi piace mi piace molto poi Nettuno avrà qualche problema di gestione andando avanti però qui in questo ingresso in scena mi piace molto mi piace però molto anche la parte di Andromeda in Siria perché anche secondo me è uno degli scontri più belli di Shun perché probabilmente è l'avversario più potente da tutti quelli che Andromeda incontra nell'insieme dell'intera carriera probabilmente se pensiamo a un po' tutti i nemici di Shun e nonostante ci sia un po' l'intervento del canto di Atena ed è vero che è uno scontro che viene un po' frammentato però in questo episodio c'è uno scambio di battute molto intimo tra Shun in Siria quando Andromeda cerca di far arrendere se vogliamo Siria però non è tanto la classica frase all'Andromeda vorremmo se bene la guerra è brutta non voglio uccidere non voglio fare domare qui è un Andromeda che riesce a reggere bene la purezza dell'avversario nel doppio egiteriano ti tira in barro anche Mime che in realtà non c'è però comunque ci può stare e gli propone di arrendersi con quella frase chi suona una musica così bella non può essere maovaggio ti rendi conto che Siria rimane un po' colpito da queste affermazioni che poi serviranno anche un po' a giustificare il bottafaccia che avrà più avanti insieme a quel ruolo scambio con Canon che c'era stato nel precedente quindi no è un episodio che mi piace molto ripeto ancora una volta adoro i disegni ricordo un'intervista in cui Arachi disse che inconsciamente senza rendersene conto aveva mano a mano che Maseer andava avanti i suoi personaggi sempre più magroili poi se ne aveva reso conto riguardando per la prima volta un episodio disegnato da lui e qui nella serie di Nettuno verso la fine ha cercato un po' di ovviare e gli dà un po' di carne in più e in effetti in questo episodio Sirio Andromeda da qui di Toscopione sono magri ma non a quei livelli visti certe volte per esempio nel 74 o anche alle 12 case ed è un compromesso che apprezzo rispetto da una versione un po' troppo più di forme del corpo in altre occasioni e quindi no bevo 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 però c'è da dire che sono giorni se non mesi non lo so da quanto che non mangiano godevano di quei lauti banchetti a Villatule quindi ci sta più consumano un sacco di energie scontro dopo scontro diciamo è coerente è coerente comunque grazie Sirio per avermi per aver detto le cose che io ho trattenuto se non vengo tacciato di piaggeria no ragazzi però è vero quando è l'ultima volta che li abbiamo visti banalmente mangiare questi qua da molto mangiare secondo me quando torna Fenix il cavaliere della fiabba infatti stavo dicendo sarà mica il cavaliere della fiabba l'ultima volta che hanno mangiato qualcosa no dai Sirio forse lo abbiamo visto mangiare poco così da in Cina ai cinque picchi che fiori di una il docco per cuova fiori di una mangiava qualcosa però tipo Andromeda hanno risolto all'ospedale all'ospedale seia qualcosa no mi hanno portato fiori mi sa mi hanno portato pasticcini questi qua non mangiano da una vita poverini ci credo che sono dimagriti poverini che mangi le alghe dove stanno adesso poi al nord non cresce nulla quindi la caccia è proibita davvero non mangiano da una vita questi qua e poi non avevano neanche mangiata ma l'ho bevuto aranciata per quel che mi riguarda però c'era qualcosa dai immaginiamo c'era qualcosa episodi che unisce le due persone con più talento che hanno lavorato a senseia per quanto mi riguarda fino a questo momento ovvero arachi e yamauchi questo è il terzo episodio in cui loro due lavorano assieme yamauchi alla regia dell'episodio e arachi chiaramente alla regia delle animazioni gli altri due lo sapete tutti degli episodi che hanno fatto insieme sono l'episodio 30 quello con le di isabene 6 in fondo al burrone che tanto piace a shiryu e l'episodio 57 che è chiaramente il secondo episodio di shaka e ikki ma va e questo è il terzo ne hanno fatti solo tre insieme e si vede ed è bellissimo per questo perché è un altro di quei casi in cui la regia e le animazioni entrano in una simpiosi perfetta esattamente tra l'altro come nell'episodio 57 yamauchi la prima cosa che fa è richiamare gli ambienti le atmosfere usare gli ambienti e le scenografie per creare l'emotività della storia l'identità della scena e infatti qui una delle prime cose comunque che vedi nell'episodio è lo stacco continuo tra quello che accade nel regno marittimo e i cavalieri d'oro rimasti al grande tempio sotto la pioggia ancora la pioggia esattamente come la sesta casa tra l'altro e anche qui la pioggia richiama soprattutto tristezza richiama la tristezza intanto del regno marino dove al tempio di Poseidon tutti le stanno prendendo da cima a fondo e quindi si respira un po' aria di sconfitta ma richiama anche la stessa tristezza dei cavalieri d'oro che sono lì impotenti di muoversi infatti una delle cose più belle di questo episodio è il primo piano di Mu che piange con le lacrime miste alla pioggia perché è chiaro che loro vorrebbero andare ma su ordine di Doko devono restare lì e quindi è molto bello anche la regia che poi va dritta su Doko e anche lì vedi Doko sotto la pioggia triste quindi c'è tutto questo di lavoro di regia e di animazione che è bellissimo ed è uno dei motivi che proprio mi fanno amare tantissimo Yamauchi e Arachi quando lavorano assieme perché proprio è il regista perfetto che trova l'animatore perfetto per fare la storia giusta quindi c'è tutta questa atmosfera di disfatta che si respira che è bellissima e molto bello anche l'arrivo a gradi di Shiryu e Yoga con tra l'altro con il sottofondo Finding Balmoo's Word quindi da potenza alla scena è una scena epica infatti il modo in cui Yoga poi arriva lì a dare una mano a Shiryu e Seiya l'unico neo secondo me un pochino dell'episodio è lo stacco improvviso sulla parte finale ovvero su Sorrento e Shun ma non perché sia brutto lo scontro tra Sorrento e Shun che è splendido è uno degli scontri più belli della saga dei mari per quanto duri poco è che proprio sembrano quasi due episodi diversi per atmosfera si vede che a un certo punto la regia viene tagliata perché bisognava andare a recuperare lo scontro con Shun e Sorrento che doveva in qualche modo concludersi e quindi si porta un pochino dietro i difetti dell'episodio precedente ovvero di questo scontro importantissimo che viene frammezzato eh un pochino troppo e quindi questo non è mai stato gestito troppo bene però lo scontro in sé è stupendo l'animazione della nebulosa tra l'altro penso che sia una delle nebulose più se non la nebulosa più bella che abbiamo in tutto Sensei sia dallo registico che stilistico è proprio bella tutta la costruzione i disegni sono fenomenale è proprio un peccato per la costruzione che si porta dietro dagli episodi procedenti perché ti sembra di non averlo quasi vissuto lo scontro tra questi due perché è sempre relegato in fondo all'episodio e l'episodio ti fa capire che la parte importante comunque è quella che hai visto prima quindi rimane un po' relegato ed è un peccato sia per Sorrento che è un personaggio molto bello che per Shun che è il suo episodio che è il suo scontro principe nella saga dei mari e anche forse o quasi di tutto Sensei e quindi niente episodio bellissimo gli do otto e mezzo 9 quindi siamo praticamente fascia alta fateci sapere commentate per quanto riguarda questo episodio cosa vi è piaciuto di più il voto vostro e noi vi rimandiamo alla prossima video del canale o del Sentry Watch ciao 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 ciao